Ragazzi eccoci con il video post partita di Genoa Roma terminata 3-1 per la Roma, meritatissimo Intanto volevo chiedervi scusa per l'ennesimo ritardo del video post partita Questo è un grande ritardo di quasi due settimane ma purtroppo in questo momento ho poca voglia di registrare Tanta voglia di riposarmi e di uscire perché le video lezioni ragazzi sono stancanti E perché comunque credo che siano gli ultimi momenti per poter uscire in questo 2020 Perché ho paura seriamente che ci possa essere un secondo lockdown anche se sostanzialmente un secondo lockdown non farebbe male Chiaramente non bene all'economia però comunque andiamo a parlare di Genoa Roma Genoa che perde meritatamente 3-1 si schiera con il solito 4-3-2-1 Importa come al solito tra i paliperin Criscito, Biraschi, Terzini E al centro Bani che viene preferito a Goldaninga Masiello che sostituisce Zapata che viene trovato positivo al coronavirus Centrocampo con sorpresa Radovanovic Rovella, Badel Zaic e Piazza Che però quest'ultimo però andrà ad affiancare Scamacca per tutta la partita appunto Scamacca davanti Genoa che nel primo tempo inesistente Solo a Roma che ci schiaccia la nostra aria Prende anche una traversa però merita Perin che in quel caso fa una grande parata Fa una grande parata e ci tiene sullo 0-0 Genoa che si rende pericoloso soltanto in due occasioni ma senza tirare Piazza che stava andando a intercettare un pallone glielo sottragono all'ultimo E poi ancora protagonista Piazza che passa a Zaic il pallone e Zaic doveva solo tirare Rientra, non ha fatto male a rientrare, attenzione però se l'allunga troppo E la palla torna alla Roma Roma che passa in vantaggio poi alla fine del primo tempo Calcio d'angolo, sbaglia la nostra difesa, sbaglia anche Perin a non uscire Ha fatto staccare la Roma, passa in vantaggio Nel secondo tempo sempre male ma per 15 minuti comunque giochichiamo E troviamo anche il pareggio, molto bene Scamacca, bravo Piazza Scamacca ancora protagonista poco dopo Perché riuscirà a trovare una grande occasione Riuscirà a trovare una grandissima occasione Per poco non passiamo in vantaggio Fatto sta che sul gol dell'1-1 molto bravo Scamacca a servire bene Piazza E il Genoa trova il pareggio Piazza che trafigge Paolo Lopez Arriva anche il 2-1 stavo dicendo Dico Arriva anche l'occasione per il 2-1 Scamacca che appunto viene lanciato Per poco non trova il 2-1 sfiorando il pano Dopodiché il Genoa si spegne La Roma grazie anche a un Bilaschi Io voglio bene a Bilaschi però veramente Un Bilaschi scandaloso che non riesce a marcare a uomo Ci fosse stato uno capace di marcare a uomo Forse non avremmo perso E scusate ho il colletto messo male E secondo me se ci fosse stato uno capace di marcare bene a uomo Non avremmo perso Magari avremmo perso però Chissà Sa di fatto che Bilaschi sbaglia sul gol del 2-1 Appunto Importante la marcatura a uomo in quel caso Inesistente la marcatura a uomo Purtroppo E Mkhitaryan Trova il 2-1 Trova anche il 3-1 Tripletta di Mkhitaryan E tra l'altro Chi ha preso quella traversa nel primo tempo Mkhitaryan scatenato Mkhitaryan trova anche il 3-1 E chiude la partita Partita dominata dalla Roma E non c'è nulla da dire Noi siamo in grammi Non c'è nulla da dire La Roma è più forte Ma questo non conta Perché la Roma Non è che possiamo accettare sempre di perdere Il calcio È il calcio Bisogna svegliarsi Ci vediamo tra pochi giorni Con il video post partita di Genoa Udinese Genoa E niente Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale Che siamo vicini ai mille